Una giuria di 1700 alunni delle scuole superiori facenti parte di 12 poli, 120 titoli in concorso provenienti da decine di case editrici e 10 finalisti. Sono solo alcuni dei numeri della non edizione delle giornate del premio letteraria che torna a Fano da venerdì a domenica con un programma ricco di appuntamenti. Sì, anche quest'anno abbiamo ben due sedi, la Mediateca Montanari, nella fattispecie sia in sala ipogea che in aula didattica con incontri e la Pinacoteca San Domenico. Quindi due incontri e due incontri, quattro ogni pomeriggio e ospiti straordinari con un programma molto variegato che va dalla lezione magistralis, per esempio quella che farà Andrei Longo nel pomeriggio di venerdì dedicata a come non si scrive partendo dal linguaggio cinematografico a quella di Elvira Serra che farà una lezione su appunto Grazia De Ledda, alla lezione magistralis di Claudia Zonghetti sulla sua traduzione nuova uscita l'anno scorso a dire la verità dei fratelli Karamazov di Dostoievski, quindi di contenuti veramente molto alti. Fino a cose anche invece più particolari come i reading, quello di Alessio Arena che noi abbiamo battezzato che è letteraria canta scrittore per cui racconterà a sé i suoi libri ma attraverso le sue canzoni perché lui è un cantautore e quindi si accompagnerà con la chitarra sempre in Mediateca Montanari o il reading della Domenica Pomeriggio di Nicola Manupelli che racconta un'America meno conosciuta che è l'America della provincia attraverso scrittori grandissimi come appunto Larry Watson con il quale è arrivato in finale o appunto Guthrie o Fitzgerald. La serata di premiazione poi si svolgerà sabato 8 ottobre alle 21.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. I riconoscimenti che verranno consegnati saranno due del valore di 2.000 euro ciascuno, all'autore del romanzo italiano più apprezzato dalla giuria e poi un premio dedicato alla narrativa straniere in traduzione. Noi abbiamo deciso di premiare il traduttore, non perché i ragazzi leggendo siano in grado di comprendere la qualità della traduzione ma perché comunque se apprezzano un libro lo apprezzano nella veste italiana, quindi perché non riconoscere al traduttore che se è riuscito a far amare un libro merito è anche suo. Ci sarà un'altra serata importante oltre a quella dedicata alle premiazioni? Sì, la serata di venerdì 7 che per noi è la serata inaugurale a tutti gli effetti e ogni anno cerchiamo di portare il teatro civile. C'è una forma di teatro ma che parte dalla narrazione in cui la parola è centrale e anche quest'anno avremo gli straordinari attori dell'Aquila Signorina con uno spettacolo su Rosalind Franklin, questa straordinaria scienziata laureata sia Cambridge che per prima ha scoperto il funzionamento dell'elica del DNA poi collaborando con i suoi colleghi si è vista, non dico scippare, ma comunque non riconosciuta nel merito di aver aperto questi studi e come sempre è un'interrogazione non solo sulla scienza ma anche sulla morale, sull'etica, sul ruolo delle donne e sulla fatica delle donne ad essere accolte nel mondo accademico, almeno all'epoca.